Io da grande vorrei fare la politica, così Arezzo e tutta l'Italia non avranno più il Made in Cina stop agli esperimenti sugli animali per fare cosmetici e pellicce. I prezzi caleranno molto più, ma soprattutto se fosse politica, una bambina di 9 anni di Arezzo, che questa mattina in classe, insieme ai propri compagni, ha preso in mano la penna per scrivere sul proprio quaderno un tema che adesso sta facendo il giro del mondo sul web. 15 righe nel quaderno d'italiano per un tema bipartisan che fa vedere il mondo attraverso gli occhi di una bambina che si è meritata il super super brava della propria maestra, parlando di politica, sprechi di denaro pubblico, salute e con il sogno nel cassetto di cambiare tutto questo, una volta diventata grande. Dopo aver superato l'emozione per il voto e i contenuti del tema, i genitori hanno postato sulla propria pagina Facebook, su quella dello Zodio 105, il compito e in poche ore le condivisioni sono aumentate, come ci racconta il papà di Eva. Soddisfatta del bel voto preso a scuola, mi fa leggere il testo e dico Eva, ma dico porca miseria, da grande vuoi fare questo? Ma è solo un pensiero, quasi imbarazzata, ma obiettivamente magari continuasse a avere queste idee. La cosa che mi colpisce di più al di là dei strisci alla notizia, al di là dei cibi di McDonald's, mi piace che dice io da grande voglio essere onesta e pulita. Mi piace, mi emoziona, mi siamo messi a piangere, io e la mia compagna, la madre di Eva, lei si è messa a piangere tantissimo. Ho deciso di farlo, lo butto là su Facebook, vediamo cosa succede, mi è venuto in mente anche di metterlo sulla pagina dello zoo di 105 e lì è scattato il delirio, cioè tutti lo stanno condividendo, quasi geloso di mia figlia, questo grande successo è, sono contento, spero che nel suo piccolo riesca a lanciare un piccolo messaggio, speriamo che i cuori di qualcuno si aprano. E domani tutti sintonizzati sullo zoo di 105 perché magari se ne parlerà ancora? Tutti sullo zoo, come ogni giorno non manchiamo di ascoltare lo zoo di 105 e speriamo che qualcuno magari ai piani alti dica però la bambina non ha tutti i torti, forse dovremmo ascoltare i ragazzi oggi come oggi.